Torniamo invece sul fattaccio di Oklahoma City, ovvero il tap-in di Kendrick Perkins, evidentemente illegale, diciamo così, è stato il canestro dell'ultimo sorpasso in gara 1 contro i Denver Nuggets. L'NBA, e non poteva fare altrimenti, ha detto sì, effettivamente gli arbitri hanno sbagliato, non tanto perché ha toccato la rettina, quanto perché il pallone era ancora all'interno del cilindro e da questa inquadratura si vede benissimo. Ma non tanto perché gli arbitri potevano benissimo chiedere l'Istan perché erano nella zona dove si poteva appunto affidarsi alla televisione, nonostante le proteste di Carla, l'Istan non è stato neanche paventato e allora perché c'è, nel senso questa era una situazione dove tre arbitri, non uno, tre arbitri, potevano vedere o immaginare di aver sbagliato e di rivedere qualcosa. Quindi, amici all'ascolto e alla visione, non lamentatevi se l'ottimo alberto Rizzoli, che tra l'altro è il nostro telespettatore affezionato e salutiamo, magari non dà il rigore o un gol già fatto alla vostra squadra preferita, non lo dà e non può neanche nel dubbio chiedere aiuto, a parte al quarto uomo, a qualsiasi mezzo elettronico. Questi sono in tre, vicino all'azione, hanno l'Istan replay, era chiarissima questa situazione, dal primo secondo che ci fosse un'infrazione e si sono ben guardati dal cambiare o comunque andare a vedere. Questa è una situazione che potrebbe veramente cambiare la serie, nel senso che questa serie, lo diciamo tutti, era una che andava sicuramente alla sesta o magari anche alla settima. Con questa vittoria... Non è successo che mancava più di un minuto, infatti George Carla è stato molto onesto e molto lucido perché ha detto l'errore dopo quello degli arbitri è stato il mio perché in una situazione in cui i miei giocatori erano completamente fuori di testa, perché non condividevano la scelta arbitrale, dovevo chiamare time out e cercare di farli ragionare. Però, due punti in meno, palla di Denver con la squadra davanti, con quanto? Un minuto è poco. Quindi non ti dico che la partita era vinta, diamo una percentuale, al 70% era in mano a Denver. Ricordiamoci che in percentuale, l'NBA ha fatto un calcolo, la squadra più debole, o meno quello che arriva con il record più basso, che vince gara 1 nel 56% delle volte, poi va a vincere la serie. Quindi Denver avrebbe avuto, almeno dalla statistica, vincendo questa partita, un aiuto. Adesso vedremo, stasera, credo, in gara 2, cosa succederà. No, non giocano stasera, gioca il mercoledì. Domani sera, è la serie domani sera. Arriveranno abbastanza avvelenati i Denver Nuggets, vedremo come sapranno reagire a una situazione che ovviamente li ha, onestamente, li ha derubati.